Il mio migliore amico è Alex, quello marrone. Immigrato? Io non l'ho mai visto. Se sei giallo, nero o rosa, non importa, non c'è differenza. Ma cosa vuol dire extracomunitari? Che sono dei giganti? Perché ad alcuni non vogliono dare l'asilo? Nel mio c'è tanto posto. Cosa vuol dire tu sei albanese, tu sei italiano, tu sei indiano, tu sei rumeno? Io sono Marco. Ciao. 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 Ciao.